Mi scusi? Mi scusi? Salve. Non so come esprimerlo. Ne ha per molto? Cosa? Non so se aspettare il mio turno. Non ho considerato il parapetto. Può prestarmi la scala? Forse dovrei aspettare. Sì, aspetto. E starà lì a guardare? No, 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 certo. Lei vorrà farlo da solo, immagino. Immagina bene. Allora vado lì. Sì. Le faccio un urlo mentre scendo. Ok. Allora vado. Allora vado. Allora vado. Grazie a tutti